Elezioni amministrative, Italia Viva dove sta, dove starà, dove vorrà stare? Ci sono comuni sotto i 15 mila abitanti, ma ci sono anche quelli che invece superano questa soglia dove immagino le alleanze tra partiti, soggetti politici, ora si chiamano così, saranno forse più evidenti. Nei comuni sotto i 15 mila abitanti cercheremo nella nostra storia, noi siamo dei riformisti, di stare evidentemente dentro quelle liste civiche che rappresentano l'area riformista evidentemente di centro-sinistra. Un punto è chiarissimo, dove noi e quindi quelle saranno liste civiche non ci saranno problemi di simboli, ma saranno persone nel territorio che faranno parte di queste liste. Invece nei comuni sopra i 15 mila abitanti, dove ci sono liste con simboli e quindi anche competizione di coalizioni, un punto evidente e chiarissimo di Italia viva in tutta la provincia e quindi nei due comuni dove si vota, Sansepolcro e Montevarchi, noi non staremo mai in coalizione se ci abbiamo con noi accanto il simbolo 5 Stelle. Questo è un punto di rimente, perché il nostro tipo di azione politica, di strategia, di idee, di volontà e il nostro elettorato è conflittuale col populismo, quindi non solo il populismo dei 5 Stelle, ma anche il populismo ad oggi di Lega e Fratelli d'Italia. Questo è il primo elemento di rimente. Poi in tutte le elezioni noi cercheremo di far parte di aggregazioni con alleanze, prima di tutto parlando con quella che è l'alleanza di centro-sinistra. Se poi non ci riusciamo parteciperemo nella nostra rappresentatività sui territori. Non ci interessa, ci interessa non tanto vincere, ci interessa creare un punto di riferimento in ogni realtà comunale dove siamo. Qual è il nostro obiettivo attuale? Con molta franchezza. Noi oggi stiamo lavorando perché da queste amministrative si inizi quel percorso che è veramente indelogabile che tutta quest'area riformista, liberal-democratica trovi un momento di convergenza e costruisca una nuova aggregazione all'interno di questo Paese che non è un'aggregazione banale. È l'aggregazione che bene o male oggi, non vi scordate, oggi la media degli ultimi 12 anni ha votato massimo il 58% degli italiani. Vuol dire che c'è un potenziale elettorato che non ha trovato un'offerta adeguata a quelle che sono le loro esigenze politiche. Ecco, noi dobbiamo riportare la gente a votare. Vogliamo darne una speranza, una proposta con contenuti e proposte. Credo che Italia Viva a questi mesi sarà stata attaccata da tutti, ma se molto almeno non ci fosse stata Italia Viva non ce l'ha neanche Draghi. Questo è un dato quasi inderogabile, mi sento di dirlo, nel bene normale. Oggi molte vedove incominciano a ripensarlo. E la tua domanda è pertinente perché io credo che da ottobre, finita la fase dei vaccini, e quindi la gente anche da un punto di vista psicologico, avrà un approccio diverso nella società. E se avviene da lì alla prossima primavera il rimbalzo economico, credo che quello che abbiamo portato avanti con le nostre idee, con la nostra azione a livello nazionale e regionale, ci potrà dare dei buoni risultati.